Un piccolo gesto per non dimenticare il proprio paese. Con questo spirito si è svolta ieri pomeriggio nei comuni in cui la scuola calcio DGS del Giorgio ha messo radici la manifestazione L'albero di Natale del mio cuore. Sono immagini di momenti di condivisione. Dieci comuni coinvolti in questo evento natalizio. Fin dall'inizio l'obiettivo della società rossonera è stato abbattere il campanilismo creando un territorio unito non solo nel nome del calcio ma soprattutto in favore di un ambiente sportivo pulito. Lontani dalla strada a contatto con la vita i suoi valori migliori quali l'amicizia e la solidarietà. Sotto questi auspici l'evento di ieri ha unito il territorio nella consapevolezza che ogni paese ha i suoi giovani campioni da custodire. Quasi dieci comuni presenti sulla nostra scuola calcio, i ragazzi sono più di 250, tocchiamo circa i 300 e stiamo facendo un bel lavoro. C'è tanto da lavorare perché ancora l'organizzazione deve essere perfetta perché non la vogliamo noi quindi c'è ancora un po' tante cose da mettere a posto però diciamo siamo sulla buona strada perché i risultati stanno venendo, i ragazzi si stanno divertendo e soprattutto gli addetti ai lavori ci stanno facendo i complimenti per quello che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi speriamo che tutto vada bene e proseguiamo sulla nostra strada. Iniziativa importante anche per l'assessore al commercio del comune di Tortora, Biagio Praino. La DGS l'ha dimostrato già dai primi giorni quando si è insediata qui nel nostro territorio, lo fa con le famiglie, lo fa con i ragazzi del nostro paese e non solo. Sta portando un bel ritorno di immagine a livello sportivo e turistico quindi non c'è che ringraziare l'intera società. E' i genitori che credono moltissimo in questa iniziativa.